Dal 3 al 6 marzo torna il Carnevale montoriese, longeva manifestazione promossa dalla Proloco di Montorio che culmina con il caratteristico rito del Carnevale morto, in programma la sera del mercoledì delle Ceneri. Ma tre giorni sarà molto bella, nel senso che partiamo domenica, tre con i carri, quindi nel pomeriggio dalle 14.30 nella sfilata dei carri e sono sette carri quest'anno, quindi insomma anche delle frazioni, questo ci fa molto piacere. Alcune frazioni che non hanno mai partecipato quest'anno parteciperanno alla sfilata dei carri. Poi il martedì ci teniamo moltissimo quello dei bambini, sempre in piazza e per poi finire col Carnevale morto che arriviamo quasi al centenario, quindi diciamo quasi cento anni che si svolge questa manifestazione, un po' dissacrante però è popolare, quindi le cose popolari vanno portate avanti sempre. L'attesa messa in scena della parodia del rito funebre sarà preceduta domenica di Carnevale da una grande festa in piazza con la festosa sfilata dei carri allegorici. Ospite d'onore della manifestazione, quest'anno sarà il comico e cabarettista Martufello al secolo Fabrizio Maturani, già star del Bagaglino. Il grande Martufello che ha noto a tutti come maschera, come attore del Bagaglino, scoperto da Pierfrancesco Pingitore 40 anni fa, insomma negli anni 70, quindi con una carriera alle spalle notevole, sarà il nostro guest star, la nostra guest star che ci aiuterà nel fare satira politica, nel fare satira di costume e chi meglio di lui, insomma, è pronto anche a rispondere alle nostre gag improvvisate, perché lo ricordiamo, il Carnevale morto è bello anche per questo. Tutte le satire sono improvvisate, non c'è un copione scritto e quindi tutto quello che accadrà la sera di mercoledì non lo sa nessuno, nemmeno io che insomma faccio parte anche del, diciamo così, dello staff. Ad accompagnare il feretro sarà anche la banda città di Montorio. Al termine del percorso, come ogni anno, il Carnevale morto risuscita, tra applausi, balli, castagnole e vimbrulè.